Di fronte a un sinodo, il sinodo voluto dall'attuale pontefice che sicuramente metterà in discussione per volontà dello stesso Papa i fondamenti della dottrina cattolica e fondamenti morali del cattolicesimo, spinti da una volontà democratica che naturalmente non ha mai fatto parte della storia della Chiesa, bisogna reagire e per reagire bisogna semplicemente continuare a studiare. E studiare significa che è necessario da parte di ogni cristiano conoscere quali sono i fondamenti dottrinali della nostra fede che non possono e non verranno mai toccati. Seppur verranno toccati, saranno fatti da persone che si autodefiniranno come eretici, anche se magari nei livelli più alti della Chiesa. Noi da cristiani sappiamo che la Chiesa possiede ancora sacerdoti e ministri che conoscono la dottrina e dunque andiamo a confessarci da quelle persone che conoscono la dottrina. E qualora noi trovassimo, come è successo a me, dei sacerdoti che ci raccontano il falso in confessione, saranno poi a fare loro, se la vedranno loro con Gesù Cristo nostro Signore. Tuttavia, noi sappiamo ciò che dobbiamo confessare. Non ascoltiamoli, non prendiamocela, se vi sono sacerdoti, come è successo a me, che ci dicono che i dieci comandamenti non vanno più seguiti, che sono cosa superata, che non si confessano più i peccati del sexto, quelli del sesto comandamento. Non ce la prendiamo, diciamo semplicemente quelli che la nostra coscienza, ispirata dallo Spirito Santo, ci dice essere peccati. Non però nostre invenzioni, ma quello che è peccato, secondo la dottrina immutata della Chiesa, bisogna però studiare. Ci sono San Tommaso d'Aquino, ci sono i grandi padri della Chiesa, c'è lo stesso insegnamento dottrinale, i vari catechismi, il catechismo di Pio X, ma lo stesso catechismo di Giovanni Paolo II, che poi non è suo, ma è della Chiesa, del 92, che ci possono spiegare perfettamente che cosa è giusto, che cosa è sbagliato. Se dunque noi avremo nei prossimi anni sicuramente sacerdoti che benediranno le relazioni gay, i rapporti prematrimoniali, tutto ciò che volete, la contraccezione, l'aborto, perché sono, perché così vuole lo Spirito di Dio, noi sapremo che ci stanno raccontando delle fregnacce, molto pericolose purtroppo e magari anche, diciamo, drammatiche per quelle anime che non sono pronte, ma noi saremo pronti. Noi, forse pochi nella Chiesa, saremo pronti a riconoscere sempre i nostri peccati, i nostri fallimenti, alla luce però della dottrina di Cristo che non cambia. Non cambia pure se il Papa dovesse sbattere la testa per terra e accogliere delle istanze del sinodo non accettabili appunto dalla dottrina, come per esempio appunto l'aborto, come per esempio l'eutanasia, per fare solo alcuni esempi, come per esempio la benedizione di rapporti che sono palesemente in peccato mortale, come appunto quelli fra due gay che siano uomini o donne, perché naturalmente sappiamo che Dio non benedice l'amore, tra molte virgolette, la sessualità che non è donata alla vita, come lui appunto ci ha chiesto e questo non cambierà mai. Pertanto, ripeto, c'è la volontà di fare un sinodo? Bene, facciamo questo sinodo, però l'impressione che si ha è che appunto questa volontà di una Chiesa che si apre al basso è una volontà di una Chiesa che non vuole più porsi come docente, quindi come Chiesa che sa ciò che è giusto, ciò che è morale, perché glielo ha insegnato Cristo, ma è una Chiesa che vuole diventare un partito politico, nella vana e molto illusoria speranza di poter così recuperare un po' dei like e degli adepti. È una Chiesa dunque che si apre al mondo, ma è una Chiesa che vuole diventare del mondo, tradendo naturalmente il messaggio di Cristo, che ha detto voi siete nel mondo ma non fate parte del mondo, quindi contro la storia stessa della Chiesa, la Chiesa vuole diventare un partito politico, sbagliando, vuole porre dunque, fare come un partito, cioè dire se la maggioranza dell'elettorato, diciamo dei fedeli, vuole che so che vi siano i preti sposati, allora perché no? Accogliamo, accontentiamoli, come direbbe una madre patologica o un padre patologico nei confronti del figlio che invece di educarlo lo vuole accontentare in tutti e modi, tutto e per tutto. Pertanto voi capite che questa Chiesa naturalmente è una Chiesa che si illude di fare ancora la volontà di Dio, perché crede, ci sono questi sacerdoti stralunati e vescovi che crede che bisogna porsi in ascolto dello spirito, che quindi questo spirito possa insegnarci secondo loro una volontà che è la volontà di fare il peccato. Quindi quella volontà appunto che non può ispirarci il fare il peccato o il benedire il peccato, invece secondo questi sacerdoti andrebbe ascoltata. Naturalmente si pongono in realtà in ascolto del demonio, ma la stessa volontà appunto di mettere a democrazia, quindi ai voti il bene, è qualcosa di inquietante, che la Chiesa non ha mai fatto, lo hanno fatto gli stati, le istituzioni civili, ma quelle sono rette dagli uomini, ma noi sappiamo che la Chiesa non lo ha mai fatto, perché? Perché la Chiesa sa che la verità è naturalmente ispirata dallo spirito santo, e che dunque questa verità non può cambiare nel tempo, mentre invece porla sotto un sistema democratico, naturalmente lo apre alla volontà umana, e la volontà umana sappiamo che in virtù del peccato originale è chiaramente deviata, è deviata verso il male, non c'è niente da fare. Pertanto questo è il discorso fondamentale, che cosa fare? Io non tollero e non tollererò mai quelle persone che dicono che vogliono uscire dalla Chiesa, ma stiamo scherzando, nella Chiesa vi sono i sacramenti, tu non capisci niente, tu sei ignorante se pensi che di poter risolvere il tutto perché c'è il sacerdote che è modernista, perché c'è il sacerdote che non rispetta più ma non ci interessa, noi andiamo in Chiesa per il corpo di Cristo, ok? Noi andiamo in Chiesa perché questa è la volontà di Dio, perché vogliamo salvare la nostra anima, e dunque a noi non interessa ciò che dice il sacerdote, magari andiamo in un'altra parrocchia dove c'è un sacerdote che ci piace di più, nessuno ce lo vieta, però possiamo confessarci senza problemi anche da un sacerdote appunto che è eretico, da un sacerdote che esprime come è successo a me in un'occasione delle posizioni eretiche. Avrei voluto ridergli in faccia? No, non posso farlo, non devo farlo. In quel momento comunque è la persona del sacerdote, è alter Christus, quindi a lui io dico comunque i peccati, che a lui piacciono o no, che li consideri tali o non li consideri tali, l'importante è che rispetti la materia e appunto del sacramento, che quindi poi la struttura per così la materia sono i peccati, sono i sacramenti, che quindi poi se lo ritiene mi dia la soluzione. Questo è il punto, quindi non minutellizziamo diciamo per così dire il nostro comportamento, minutella è una persona che ha commesso dei gravi errori, si è autoescluso della Chiesa, non ha capito niente, nella Chiesa vi sono comunque i sacramenti che a lui piaccia o non piaccia, non si possono costruire altre chiese, bisogna stare nella Chiesa di Cristo perché soltanto nella Chiesa di Cristo vi sono gli strumenti per la salvezza, che sono la grazia che proviene dai sacramenti. Se poi c'è il tal sacerdote che non ci piace, ce lo facciamo piacere, non dobbiamo per forza andarci a cena insieme, per così dire, ma dobbiamo continuare a studiare ciò che una volta era logico, adesso non lo è più. Non viviamo più in un'epoca nella quale appunto la dottrina della Chiesa era ispirata, per così dire, comunemente, pertanto bisogna studiare e ristudiare ancora. Anche circa i dogmi mariani, come ho detto in tanti video, ci sono tante persone che li negano, anche credenti o sedicenti tali, non ci interessa. Dobbiamo discutere con loro, dire quella dottrina della Chiesa senza litigare, ma naturalmente continuare e continuare a studiare. La dottrina è lì, c'è il catechismo, ci sono anche tutti gli scritti, a cominciare dal grandissimo Tommaso d'Aquino, abbandonato nel novecento, invece grandissimo, grandissimo appunto teologo, come tanti altri, loro ci saranno, ci sapranno e ci sanno spiegare a terza loro pagine la dottrina e la verità di Cristo.